Salve ragazzi! VLC è un software che mi piace, ormai lo avete capito tutti. Infatti non è la prima volta che ne parlo e non sarà neanche l'ultima. Mi piace molto perché non soltanto è uno straordinario lettore musicale capace di leggere anche le pietre, purché siano provviste di codec audio-video, ma possiamo anche utilizzarlo, tra le altre cose, per convertire file video tra diversi formati, alcuni dei quali perfetti per portare i nostri video preferiti su smartphone o tablet. Per altre funzioni di VLC vi rimando ad altri video presenti nel mio canale. Prima di vedere passo passo come convertire file audio e video tra diversi formati utilizzando VLC, vi chiedo di mettere subito un mi piace ed iscrivervi al canale. Questo per me è un atto di fiducia che mi spinge a fare altri video sempre basati sulle vostre richieste, che potete tranquillamente continuare a fare tramite i commenti. Per convertire un file innanzitutto apriamo VLC. Dal menu media, converti, salva. Nella nuova finestra, in file, clicchiamo su aggiungi. Selezioniamo il video origine da convertire. Quindi clicchiamo sulla freccia verso il basso accanto al pulsante converti salva. E scegliamo la voce converti. Cliccando su profilo possiamo ora scegliere in quale formato convertire il video. Come vedete ce ne sono tantissimi sia audio che video. Ad esempio video for smartphone HD lo renderà perfetto per i moderni smartphone Android. Spostandoci sulla casella file di destinazione diamo ora un nome al file che intendiamo convertire. E clicchiamo su avvia per avviare il processo. Al termine del quale avremo il nostro file pronto ad essere salvato e riprodotto sul nostro smartphone. Anche questo video è terminato. Se vi è stato utile vi prego di mettere un mi piace ed iscrivervi al canale. Se non vi è piaciuto iscrivetevi lo stesso sulla fiducia. Il prossimo vi sarà sicuramente utilissimo. Per qualsiasi richiesta utilizzate i commenti. Rispondo sempre a tutti. Un saluto. Alla prossima. Alla prossima.